Musica Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria. Lo sa bene la banca di credito cooperativo di Pergole Corinaldo, che al castello di Baccaresca di Gubbio ha organizzato un incontro per i propri clienti, per fornire informazioni sui mercati finanziari e per cercare di far percepire questi ultimi più vicini in un periodo di grande sfiducia. L'assunto è il seguente, malgrado le crisi dettate da inflazione e conflitti, ci sono delle certezze su cui è possibile investire, opportunità economiche e finanziarie che possono essere colte. A mettere in luce tali aspetti è stato Marzio Gussago, Sales Director di PICTE, gruppo bancario svizzero specializzato nella gestione dei patrimoni e di asset management. In una presentazione coinvolgente, in cui i clienti della BCC hanno potuto interagire anche grazie ad un telecomando, Gussago ha spiegato tutta una serie di dinamiche che hanno una base economica molto forte, che spesso si ripropongono e che possono essere intercettate. PICTE è un gruppo bancario svizzero all'interno del quale c'è anche l'asset management e quindi la realtà che gestisce fondi comuni di investimento. Quindi una realtà oggi che propone al mercato italiano diverse soluzioni e passa attraverso la distribuzione di realtà come le banche italiane. Questa sera siamo ospiti della BCC di Pergola per fare un incontro con la clientela finale. Quindi di solito il mio mestiere è quello di incontrare i consulenti, questa sera invece in modo straordinario incontrerò il cliente finale. Per fare che cosa? Sicuramente per cercare di capire insieme quali sono le logiche e le dinamiche da mettere in un portafoglio di investimento. Noi spesso volentieri siamo un po' alla merced della notizia del giorno, guerra in Ucraina, adesso in Palestina, piuttosto che le scelte delle banche centrali e forse ci focalizziamo troppo su questi eventi che sono di breve respiro, mentre invece il segreto di un ottimo investimento potrebbe essere quello di guardare nel lungo termine e capire che alcune dinamiche che sono certe e ineluttabili, la digitalizzazione tra tutte ad esempio, possono essere invece quell'elemento focale in un portafoglio che poi può portare le giuste performance con l'orizzonte temporale corretto. È una sorta di incontro a 360 gradi, dove non si parlerà neanche lontanamente di prodotto, ma si parlerà di alcune dinamiche che nel tempo tendono a ripetersi, ma soprattutto di idee, che sono quelle idee che ovviamente cambiano la quotidianità delle persone e quelle idee che spesso volentieri hanno un impatto economico, l'impatto economico spesso volentieri è anche finanziario, quotato, quindi può essere messo in un portafoglio di investimento. Il segreto è quello di avere a fianco un consulente in gamba, un consulente che non si è guidato, come dicevo prima, dalla notizia del giorno, ma si è informato su come cambierà il mondo nel prossimo futuro. Il nostro compito, se vogliamo, è quello di intercettare quelle dinamiche nelluttabili che plasmeranno le nostre vite e che allo stesso tempo possono essere messe in un portafoglio di investimento. La BCC ha una missione che è diversa da quella delle banche di livello nazionale. Quello che ci differenzia è il perseguire il fine statutario di facilitare l'accesso al credito e ai servizi finanziari dei nostri soci e clienti, senza dover perseguire la massimizzazione dell'utile. Questo come si concretizza? La banca a fine anno non deve distribuire un dividendo ai propri soci, come devono fare le banche S.p.a., ma utilizza quelli che sono i ricavi per patrimonializzarsi e per poter fornire ancora più servizi e finanza per il futuro. Ci siamo voluti inserire con questo evento in quello che è il mese dell'educazione finanziaria per portare la nostra visione di finanza, che sia una finanza sostenibile, che riguardi a lungo periodo, che sia una finanza di investimento e non di speculazione. Questo è il nostro messaggio e il nostro modo di fare banca. Noi cerchiamo in generale di far sì che il nostro cliente sia il nostro cliente per tutta la vita, dal primo giorno che entra fino a tutto l'ultimo servizio di cui ha bisogno. E questo lo possiamo fare solo mettendoci la faccia, dandogli un servizio di relazione e soprattutto dandogli servire il servizio e il prodotto che gli serve. In questo modo il cliente si fidelizza e soprattutto viene ascoltato e seguito in quello che sono i suoi bisogni. La BCC infatti da statuto si propone di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca. Da questo punto di vista è centrale la presenza del gruppo nei territori, non solo quelli delle Marche dove è nata e sia consolidata, ma anche quelli Umbri con le due filiali di Gubbio e Gualdotadino, operative rispettivamente dal 2019 e dal 2021. I nostri clienti sono i nostri amici, i nostri compagni di scuola, le persone che incontriamo al bar e c'è soltanto un modo per comportarsi che è quello della visione comune d'insieme e della correttezza. Siamo in un periodo in cui si parla di desertificazione bancaria, in cui i grandi gruppi si assentano del territorio con piani di chiusura di centinaia di filiali all'anno. Il credito cooperativo in generale non ha perseguito questa strada. Noi abbiamo 16 filiali e più di una in comuni in cui siamo l'unica banca. Il legame col territorio deve anche dimostrarsi attraverso fatti concreti. L'unico modo di farlo realmente è essere presenti e dare un servizio di relazione. Le due filiali che abbiamo aperto in Umbria sono state filiali aggiuntive rispetto a quelle che avevamo e la seconda filiale di Gualdo che è arrivata dopo due anni da quella di Gubbio è stata sicuramente figlia della grande accoglienza che il territorio ci ha dimostrato e questo ci piace pensare che sia la dimostrazione che il nostro modo di fare banca è apprezzato, che il futuro non sia per forza solo digitale e solo a distanza, ma che la reazione avrà comunque il suo valore. Per quanto riguarda invece il legame con il territorio direi che è nato in modo molto spontaneo siamo veramente soddisfatti. Ormai sono quattro anni e mezzo circa che abbiamo aperto la nostra filiale di Gubbio. I risultati sono decisamente soddisfacenti, non solo in termini numerici, ma proprio in termini di riconoscimento da parte della popolazione e della clientela più nello specifico. è veramente un piacere poter lavorare in questo contesto, abbiamo avuto diverse soddisfazioni. In questi primi due anni abbiamo lavorato molto bene, c'è stato un positivo apprezzamento da parte della clientela e una cosa molto bella è stato anche il passaparola tra coloro che sono già diventati clienti che hanno parlato bene di noi e spontaneamente hanno fatto sì che altri clienti si avvicinassero alla nostra realtà. Quindi dal mio punto di vista sono molto soddisfatta e contenta e il tutto in considerazione di un momento molto difficile e storico perché abbiamo aperto praticamente quasi in piena pandemia perché era fine settembre 2021. Poi comunque a inizio 2022 c'è stato il discorso guerra, inflazione, quindi un momento molto difficile in generale, però noi stiamo rispondendo positivamente, siamo vicini alle persone, ai clienti e questo è apprezzato. Grazie.